Continua il periodo nero dell'Avezzano che rimane a quota 0 in classifica, Aldemar si finisce 1-3 per la Civitanovese, brava e ordinata a far sua l'intera posta contro la squadra bruzzese, rea di aver troppa fragilità difensiva e psicologica. Calcio d'inizio per gli ospiti, dopo i primi minuti di equilibrio con qualche tentativo su pala inattiva di marca locale e la Civitanovese a creare la prima chance degna di nota. Brunette si invola verso il limite dell'aria e prende pericolosamente la mira, i marsicani si salvano nel più classico dei calci d'angolo. Rispondono i lupi al 24esimo Ferrandino, crossa sulla ribattuta, mascella, anticipa tutti, anche il suo compagno Tonelli, ma calcio alto. L'Avezzano cresce e prova a rendersi sempre più pericoloso, provando a sfruttare qualsiasi incertezza ospite. Prima Litteri di Tessa non riesce a sorprendere l'estremo avversario e una mancetta di minuti dopo Ferrari trova solo i guantoni del classe 2005 Petrucci. Nel finale di primo tempo rispondono gli Adriatici con Diop, ma l'incornata non è precisa. Nella ripresa la Civitanovese potrebbe avere una ghiotta chance con Padovani che però perde l'attimo. Sul ribaltamento di fronte potrebbe arrivare la classica beffa, ma Petrucci è strepitoso, prima a togliere il pallone dalla testa di Litteri e poi a smanacciare in volo sulla bordata di Verna. Rete che arriva dalla parte opposta, l'ex Campobasso Vittorio Esposito prende la mira e disegna un capolavoro che va a depositarsi in fondo al sacco. All'Avezano serve il classico episodio che arriva al 79esimo minuto, tocco di mani in aria di passalacqua e calcio di rigore. Dal dischetto il neontrato di Silvestro si prende tutte le responsabilità e deposita. In rete l'1-1 i rivieraschi potrebbero nuovamente rimettere il match della propria parte, ma è clamoroso il palo colpito a colpo sicuro da Diop a porta spalancata. Poco male per il rosso-blu al minuto 87, buona voglia, spacca in due la difesa avversaria e dal limite sigla il pesantissimo 1-2. Nel finale si accendono gli animi, classico parapiglia. A pagare il Dazio Maggiore è vantaggiato, espulso da Ambrosino di Torre del Greco dopo essere entrato in campo da soli due minuti. Nel finale l'undici di mister Pokesci avrebbe la chance di impattare il match, ma l'assist di Passegue non viene finalizzato da Ferrari che non riesce a colpire il pallone. Gol mangiato, gol subito. Brunetti in contropiede decide la contesa, confezionando il 3-1 finale. Finale amarissimo e tantissimi fischi dei tifosi marsicani all'indirizzo dei Biancoverdi, ancora secco di punti. Festa in casa Civitanovese per la prima vittoria stagionale.